Insieme ai colleghi della Lega siamo davanti a Montecitorio per dare supporto ad alcuni sindaci che hanno deciso di fare una marcia particolare, una marcia che va dall'Emilia fino a Roma, una marcia per dire no a tutte quelle politiche di questo governo che hanno lo scopo di ammazzare i piccoli comuni che sono sparsi sul territorio. Il bello dell'Italia è proprio questo, il bello dell'Italia è proprio quello di valorizzare le diversità, valorizzare la possibilità che hanno i piccoli comuni d'Italia di dare servizi sul territorio, di dare tutto quello che i cittadini stanno chiedendo in questo momento. Il governo invece vuole andare in un'altra direzione, far sì che ci siano le unioni tra i comuni, far sì che ci siano meno servizi sui territori, far sì che i piccoli comuni non abbiano più senso. Noi per esempio in provincia di Pavia ne abbiamo tantissimi di piccoli comuni, in particolar modo nella zona dell'Oltrepopavese, come Lega l'abbiamo detto in tutte le lingue e in tutte le riunioni, per noi i piccoli comuni hanno un senso perché danno una risposta a tutti quei cittadini, soprattutto anziani, soprattutto quelli che non riescono a muoversi ed arrivare fino a Pavia e di conseguenza la nostra posizione è una posizione a tutela di questi sindaci che stanno facendo un grandissimo servizio. Grazie 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 Grazie